Formazione in campo, gentili e rispettatori, ovviamente parliamo di sport in tre castagne anche quelle galatine per questa ripresa della partita che riguarda la sedicesima giornata del campionato di promozione Girone D. Ricordiamo il parziale, tre castagni, due, Aquile, zero. I gol sono stati realizzati all'ottavo sul calcio di rigore da Murabito, raddoppio al trentaduesimo da Finocchiaro. Mentre vediamo che il mister Boncopani sta per effettuare la prima sostituzione, malgrado Ron in buone condizioni fisiche, entra in campo con la casacca numero 18, Giacquinta, che componeva la panchina dei Biancorossi insieme a Colleghi, Gianni Zotto, Garanti, Buttiglieri, Sant'Angelo e Parisi. Non dovrebbe essere del match più altamore. Partiti intanto per la ripresa. C'è un lungo lancio sulla tre quarti Biancoroso, fermato da Walli, colpi di destra all'indietro di Amadou, rilancio di Nicotra, attraverso la linea centrale, l'anticipo di Boccaccio su Haddou Laerid. Ritorna dunque in possesso parla alla promozione di casa col bol palleggio di Sinito. Sinito che ha spessato il gioco sulla sinistra, poi il retro passaggio è messo in movimento Murabito, quindi ancora Boccaccio e poi Riolo. Riolo che ha sicuramente giocato una buona partita nel corso del primo tempo, viene attaccato fallosamente nella circostanza da Amadou. Punizione accordata ai padroni di casa, che hanno sicuramente ben giocato e poi sfruttato quella situazione al trentaduesimo, quando è stato lasciato spazio sulla destra al bravissimo Luca, che ha fatto tutto da solo, è entrato in aria, ha pennellato un cross perfetto per l'inserimento sul secondo palo di Fino Chiaro, a portiere praticamente battuto. Intanto la palla intercettata è Ruscica, che allarga ancora nella zona di Abdoulaye, che ferma nel pallone, attende i rinforzi, retro passaggio che mette in movimento Amadou. Amadou attaccato, difende la palla, misura corta del passaggio, che comunque raggiunge Walli. E poi Ruscica a sinistra su Bartoluccio. Bartoluccio attende i rinforzi, poi lancia per la sponda del neo entrato, Giacquinda che tocca il suo primo pallone, Amadou, quindi Nicotra, allarga per l'avanzante Walli, che dunque si propone solo tra i quarti avversari, è una delle poche volte che lo fa in questo match. Teckel scivolato in out, rimessa bianco-rosso in attacco, lo stesso Walli si incarica da battuta, mentre si è ulteriormente abbassata la temperatura qui alla Carlina di Trecasagne, intanto la sponda buona di Abdoulaye, la palla in mezzo per Ruscica che si gira a cosa colpo sicuro, poi ancora Nobile non trova il varco per la battuta vincente, con la formazione bianco-rossa, Bartoluccio viene toccato sul piede da Foggia, è messo a terra da Mirabelle, c'è calcio di munizione per le Aguile Galatine, che sono date dunque vicinissime al gol che avrebbe dimezzato le distanze, con il tiro quasi a colpo sicuro dalla distanza ravvicinata effettuato da Francesco Nobile, che però è stato poco fortunato, o se non altro, molto bravi difensori centrali del Trecastagne, a ribattere la sua battuta pericolosa. Tutto questo al secondo minuto di questa ripresa, mentre vediamo è pronto Nicotra per calciare questa punizione. tanti bianco-rossi nei 16 metri avversari, distanza abbastanza ravvicinata, potrebbe anche tirare in porta Nicotra, che prende una lunga rincorsa, carica il suo tiro violentissimo, con i pugni si oppone bene il portiere Ravasco, che ha smanaccio dunque deviato in corner, calcio d'angolo numero due per le Aguile Galatine, uno soltanto ne ha battuti fino a questo momento il Trecastagne. Ruscica dalla lunetta, movimento in aria, parte il traversone a centro aria, colpo di testa centrale, blocca con sicurezza Ravasco, credo abbia colpito Abdullai. Lungo rilancio verso la squadra di avversaria di Ravasco, la palla che rimbalza a terra, c'è fallo su Walli, l'arbitro resta il gioco e comanda punizione per le Aguile Galatine. Pronto Ruscica a battere nella zona di Amadou, Amadou palleggio aereo non riuscito, fermato dagli avversari, retro l'assaggio di Sinito, ma poi intercetta ancora Amadou, Amadou cerca di puntare l'avversario, ma si rascina la palla fuori. Amadou dal potenziale atletico e anche tecnico, se volete, importante, ma che non è ancora riuscito bene a integrarsi in questo team. Intanto il contrasto del stesso Amadou frutta un'altra rimessa al Trecastagne. Sembrerebbe però che la formazione di mister Buoncompagni sia scesa in campo con un piglio un po' più determinato. Ma attenzione a questo corto rinvio di Nicotra, il destro centrale blocca con sicurezza Polessi. Il tiro credo sia stato di Luca, sicuramente il migliore dei giallo-blu fino a questo momento. Lungo rilancio intanto all'estremo difensore bianco-rosso, la testa di Boccaccio, il tocco di Lupica, Lupica attaccato da Tergo in maniera regolare da Luca che dunque torna in possesso della palla. Poi si cordina parte di sotto la versione, tenta lo sopra a seguire fino a chiaro lo ferma Ruscica che poi subisce il fallo dall'attaccante 9.09. Ed ecco comandato il calcio di punizione a favore delle Acquili mentre c'è un piccolo faccia-faccia tra Wally. Attenzione, ancora Screzzi ma con Sinito. Adesso va anche Luca a prendersela con Wally. Un po' di nervosismo. Non hanno certamente motivo, soprattutto i giocatori di casa, a prendersela. Forse è un po' provocatorio l'atteggiamento di Wally, insolito questo suo atteggiamento, che adesso è stato ammonito. Quindi ammonito Wally. Aria gelida. Peraltro ventilata. E certo questo non rende facile il nostro compito in termini di commento a questa partita. Intanto Polessi corto su Ruscica. Nicotra lo attacca fino a chiaro. Ruscica. Genovese. Ruscica cerca di ragionare la formazione biancorossa. Non controlla bene, Ruscica rischia qualcosa in questo frangente. Nicotra di prima, ma il suo lancio non passa. Riconquista palla, ma poi recupera lo stesso Nicotra. Quindi Amadou. Amadou difende il possesso palla fin quando viene strattonato e quindi punizione assegnata alle Acquile. Pronto Nicotra sul punto di battuta. Lupica. Genovese. C'è spazio per Bartoluccio che viene servito con notevole ritardo. Il lancio che riaggiunge la finta di Abdullai, ma non abboccano i centrocampisti del Trecastagni che rilanciano il suo metà campo per accoglie palla genovese. Quindi Bartoluccio di prima di testa si inserisce per una azione boccaccio. La palla è recuperata da Finocchiaro contro l'attacco, attenzione del Trecastagni aperto la destra per Luca. Luca che punta l'aria avversaria, va in triplica, è saltato l'avversario, il suo tiro è il miracolo di Polessi che respinge col ginocchio sinistro. Dunque Lupica. Ripartenza dalle Acquile. C'è spazio adesso. Potrebbero approfittare un attimino di questo frangente lungo lancio di Amadou in una zona morta. Non ci sono compagni. Ancora l'ennesimo errore tecnico di Amadou che dovrebbe decidersi a migliorare il suo gioco in fase di rifinitura. Con calma adesso Ravasco. Lungo rilancio del sereno difensore Giallo Blu al centrocampo. Manca l'intervento Amadou. La palla è recuperata però da Walli che riesce in qualche modo a servire a Abdoulaye, la sponda buona, a Beneficio di Nicotra. Esterno destro che mette in movimento il giocatore nobile. Nobile si fa a largo molto bene l'inserimento di Giacquinta. La palla è in gol. Grande azione. Gran gol di sinistro di Alessandro Giacquinta. Ottimamente servito da Francesco Nobile. Bella giocata. Bel gol. Del neo entrato Alessandro Giacquinta. Dunque gentili telespettatori quando siamo giunti esattamente all'ottavo minuto e mezzo di questo secondo tempo. La formazione bianco-rosa accorce le distanze grazie a questa presentazione che ha visto protagonista prima Nobile centralmente ha tenuto duro il possesso palla ha aperto bene per il preciso e tempestivo inserimento in aria avversaria di Alessandro Giacquinta che d'interno collo sinistro ha trovato il palo interno alla destra di Ravasco. Tre castagni, due, aquile, uno. Ci sono segni di reazione. Murabito, rilancio lungo verso altre quadri avversaria la testa di Roushic di piatto destro allontana Bartoluccio l'azione riparta dalle retrovie del Tre castagni servito Mirabella Mirabella la sponda buona di Luca boccaccio sventagliata a sinistra dove arriva primo Walli che va in dribbling difende bene palla di prima all'indietro Nicotra su Roushic che sventaglia in avanti l'anticipo di Riolo il rimpallo che favorisce ancora Giacquinta tentativo di triangolazione con Abdoulaye che è stato anticipato la rimessa è bianco-rosso la palla ancora servita nella zona di Abdoulaye da tergo messo a terra c'è ancora cartellino giallo e stavolta credo sia stato ammonito Murabito ed è somma da munizioni Murabito dunque che era già stato ammonito attenzione il Tre castagni rimane in dieci se ho visto bene o forse ho visto male estrarre il cartellino rosso dall'arbitro sì ecco si tratta di Russo infatti somma di ammonizioni per Russo infatti era stato ammonito e quindi è espulso Russo dunque esattamente al decimo di questa ripresa gentile delle spedatori momento sicuramente che potrebbe essere importante del match con la formazione giallo-blu che resta in dieci somma di ammonizioni combinata ai danni dal direttore centrale Russo che reo di questo fallo ai danni di Abdoulaye viene espulso dunque gioco che riprende con il calcio di condizione a favore delle Aquile Galattine sicuramente posizione importante per il destro di Ottavio Nicotra siamo a circa 25 metri dalla porta difesa da Ravasco mentre tutta la panchina delle Aquile nel senso tutti i componenti della panchina stanno effettuando esercizi di riscaldamento e ce ne voglio vi assicuro veramente tanti qui alla Cariglia il destro di Nicotra si infrange sulla barriera del Tre Casagne la palla viene rincorsa e recuperata da Bartoluccio che effettua questo cross in mezzo di testa Abdoulaye anticipa l'avversario che è suddetto si tratta del portiere ma di fatto ha semplicemente deviato il pallone all'indietro la palla è recuperata da Nobile che ha commesso fallo dice l'arbitro il quale ha fischiato per assegnare punizione a favore dei Giallo Blu dunque reazione importante in termini offensivi della formazione Biancorossa di mister Boncompagni che dopo avere messo in campo all'inizio di questa ripresa già quinta al posto di Altamore ha questo di fatto coinciso anche con un gioco più insidioso in termini di impostazione offensiva ma attenzione a questa palla servita nella zona di De Luca la palla poi raccolta da Bartoluccio che serve Lupica esterno destro che non passa deviazione di Finocchiaro in out rimessa a favore delle Acquine pronto Bartoluccio sul punto di battuta vi ricordo che adesso il team di mister Alfio Torrisi dovrà giocare questi altri 35 minuti in 10 uomini mentre vediamo che corre ai ripari quindi richiama fuori il numero 11 Sinito e manda in campo Papotto dovrebbe trattarsi di un difensore al posto di un attaccante dunque sostituzione effettuata pronto Bartoluccio per la rimessa in gioco si ripende Genovese Ruscica adesso tutto all'indietro la formazione di casa cerca il barco Ruscica effetto questo traversone al limite di testa proprio il neo entrato Papotto devia il pallone a destra dove lo rilancia lungo in avanti De Luca e palla che viene dunque raccolta da Genovese Genovese che ancora lancia lunghissimo sulla sinistra c'è l'inserimento di Bartoluccio che viene raggiunto dal pallone lo ferma va in tribine che è saltato dall'avversario cerca la linea di fondo ancora Bartoluccio che entra in precosamente finisce a terra sotto misura la palla deviata da credo ancora già quinta che ha però commesso fallo sul suo diretto avversario nella circostanza dell'estremo difensore Lavasco l'arbitro fischia segna punizione a favore del trecastagni ma sicuramente azione pericolosa nei 16 metri avversari da parte delle aquile calatiche tutto questo dopo 14 minuti e mezzo purissima battuta da Lavasco verso la linea centrale la testa di Fino Chiaro la palla intercettata da Luca ma poi fermata da Genovese che ragiona dietro e appoggia corto su Ruscica quindi Nicotra al piccolo trotto riesce a servire Amadou Amadou è attaccato disimpegna l'interno su Ruscica di prima ancora cerca lo scatto in avanti di Nobile anticipato di testa la palla dunque riconquistata dai giallo-blu che vanno nuovamente all'impostazione offensiva e lo fanno con calma a destra a beneficio di Mirabile il passaggio che viene fermato in out rimessa a favore dallo Sporting trecastagni due palla e gol ghiottissime la prima non come dire finalizzata da Nobile al secondo minuto di questa ripresa poi al nono invece il gol di Giacquinta servito molto bene rimarchiamo dallo stesso Nobile intanto porta palla Ruscica verso la linea centrale c'ha spazio cerca di sfruttarlo alza la testa ecco a destra servito Wally subito braccato ancora Ruscica quindi Lupica si propone a sinistra e riceve Bartoluccio che mette in movimento ancora Giacquinta Giacquinta fra due per salire in dribbling serie di finte mantiene il possesso la palla parte il suo traversone sotto misura chiama palla blocca con sicurezza davanti la porta da Vasco si sprecano intanto le indicazioni tattiche di Minister Boncompagni che oggi siede in tribuna siede si fa per dire stabilmente all'impiedi perché lo ricordiamo sporificato dopo l'espulsione subita in quel di Biancavilla contro il Paternò intanto palla da quest'altra parte raccolta da Polessi è rimessa in gioco al a beneficio a beneficio di Genovese Bartoluccio Ruscica chiamato in causa per impostare la trama offensiva ha guadagnato metri in avanti intanto Nicotra cerca uno stop a seguire un po' impreciso Wally ma in qualche modo riesce a servire Amadou ma commettendo fallo dice l'arbitro che segna punizione a favore dello Sporting mentre vediamo pronta la seconda sostituzione tra le fila del Tre Castagne è pronto con la casacca numero 17 a fare su ingresso in campo Pavone che credo prenderà il posto del numero 4 Boccaccio tutto questo al 17esimo del secondo tempo Ricordiamo il parziale qui alla La Cardina dei Tre Castagne Sporting due Aquile Calatine uno ai gol del primo tempo di Murabito e Finocchiaro ha risposto al nono di questa ripresa il gol il bel gol di sinistro realizzato da Giacquinta intanto la punizione affidata a Riolo Giacquinta che riuscita a servire Amadou quindi Lupica Ruscica sventagliata a sinistra un po' corta non raggiunge Lupica poi il Tec è scivolato la vincente di Nobile ma sia pure abbia colpito il pallone ritenuto pericoloso l'intervento dell'attaccante di una nuova dell'Aquile Calatine anzi scusate di Lupica no ma come trefallo se non erro è stato nobile in ogni modo è stato ammonito per gioco pericoloso altra sostituzione pronta tra le fila del tre Castagni dunque mister Toresi anzi no pensavo stesse per entrare un nuovo giocatore invece no solo indicazioni tattiche a un suo giocatore Riolo nella circostanza mentre rimane a terra dolorante il giocatore finito a terra dopo l'intervento di Nobile e se pure Claudicante viene accompagnato fuori dal rettangolo del gioco ma vedremo se sarà nelle condizioni di poter riprendere la sua posizione in campo dovrebbe trattarsi di De Luca mentre il gioco ovviamente riprende con il calcio di punizione a favore dello Sporting tre Castagni il gioco è rimasto fermo più di un minuto sono 19 e mezzo intanto quelli dalla ripresa tre Castagni due Aquile uno pronto per la battuta intanto del piazzato Murabito che calcia verso il limite avversario la sponda tentata da Finochiario fermato da Nicotra in collaborazione di Genarese quindi Walli al piccolo trotto poi lancia nella zona di Abdoulaye che si ora semplicemente detessa la palla che viene in qualche modo allontanata dai difensori del tre Castagni che si impenna cerca di domarlo a terra Abdoulaye che di fatto ha toccato per ultimo il pallone ed ecco la rimessa accordata al tre Castagni pronto sul punto di battuta Riolo indirizzo nella zona di Bamboulaye scalcato dal pallone la palla è intercettata da Walli che mette in movimento Genovese Genovese su Bartoluccio sta giocando a tre adesso la difesa delle Aquile Calatine quindi cerca di approfittare del vantaggio numerico mister Buoncompagni schierando sulla linea di centro campo in maniera stabile adesso Ruscica che di fatto è un centrocampista Bartoluccio parte il lancio in verticale al limite tentativo di sfondo la palla che resta lì non aggancia e poi ci prova dai venti metri Lupica ma svirgola il suo esterno collo destro la palla sembrava essere stata madruda in capo di fatto così non è ed ecco assegnata la rimessa dal fondo a favore dai tre castagni ma sicuramente incursione offensiva pericolosa delle Aquile Calatine mentre vediamo pronta la terza sostituzione tra le fila del tre castagni è pronto con la casacca numero 18 il giocatore Idrisu che prende il posto dell'attaccante Finocchiaro tutto questo al ventunesimo minuto quindi si è già come dire tra virgolette giocato tutte e tre le carte sostitutive mister Torrisi in questa prima parte di secondo tempo mentre pronto Ravasco per questa rimessa dal fondo il suo destro verso la linea centrale del campo il corpo di testa è di Lupica il controllo buono se non erro di Luca che allarga al destra per il nuovo entrato Idrisu che viene però fermato in anticipo con buona scelta di tempo da Bartoluccio preciso il suo disimpegno difensivo che mette nel movimento genovese che porta palla verso la propria tre quarti ancora il numero 5 Biancorosso al possesso palla c'è spazio per Walle che viene servito sempre al piccolo trotto la manovra offensiva delle Aquile controlla male Amadou disimpegno dei difensori credo con Riolo del tre Casagni ha pure subito il fallo ed ecco comandato il calcio di punizione per i gialloblu e se non erro Papotto si incriva l'abbattuto di questo pensato anzi no si trattava di Murabito il rimpallo che furisce Biancorossi con Abdoulaye che difende bene la palla dall'attacco dell'avversario poi il suo vasaggio che non filtra ma viene toccato parladosamente messo a terra punizione pronto Nicotra sul punto di battuta dunque guadagnano nella circostanza metri importanti le Aquile e Calatine che si riversano a ridosso dell'area avversaria lungo traversone di Nicotra proprio al limite messo fuori dai difensori gialloblu che adesso bozzano una ripartenza veloce la palla sulla tre quarti viene recuperata da Walli Walli che viene attaccato proprio da Idrisu ma disimpegna bene su Genovese che porta palla verso la linea centrale alta la testa ancora Genovese il lancio a scavalcare la sponda di già quinta l'apertura sinistra effettuata l'Ubica risulta essere imprecisa per l'eventuale intervento di Nobile c'è semplice rimessa a favore del Tre Castagni rimessa effettuata palla recuperata da Genovese attaccato da Idrisu che poi però retrocede Nicotra Walli va in dribbling salta molto bene il giocatore Pavone ottima l'azione del solito Walli che viene fermato proprio ai 20 metri il rimpallo che favorisce Nobile si inserisce nell'azione del suo Bartoluccio resta in attacco con la formazione bianco-rossa con l'Ubica che riparta dalle tre retrovie chiamandoli in causa Genovese Genovese quindi scavolca nella centrale del campo riesce a servire già quinta di prima intenzione allarga il gioco a destra tentativo di cross stavolta fatto bene da Amadou ma quella volta che lo ha fatto bene è stato fermato in fuorigioco nulla di fatto punizione a favore del Tre Castagni sta per scoccare intanto il venticinquesimo di questo secondo tempo ricordo ancora il parziale Tre Castagni due Aquile uno con i bianco-rossi in vantaggio numerico undici contro dieci lo ricordo è stato espulso il difensore centrale russo per somma delle ammunizioni intanto la parla nella zona di Idrisu che stoppa male viene fermato da Genovese ritorna Idrisu in maniera fallosa sull'avversario punizione già battuta Nicotra chiama in causa Lupica si fa vedere anche Bartoluccio che riceve il suo salancio viene intercettato poi il riballo che favorisce Francesco Nobile Nobile chiama in causa ancora il centrocampista Lupica riparte dalle retrovie l'azione bianco-rossa Genovese Lupica schiacciata adesso la promozione Giallo-Blu il verticale bene per Nobile la sponda ancora su Lupica al piccolo trotto guadagna 9 metri importanti ma tentenna e perde palla Lupica la ripartenza veloce attenzione di Luca abilissimo sempre nel possesso palla si allarga in posizione di ala lo rincorre Lupica mantiene palla in campo il numero 10 Giallo-Blu e poi però ingenuamente se volete se la trascina fuori sfuma questa se l'offensiva del Tre Castagni pronto Lupica per la rimessa nel gioco effettuata su Nicotra Ruscica mentre c'è un giocatore vittima di crampi a terra del Tre Castagni si tratta di Luca e sportivamente adesso mettono la palla fuori Biancorossi per dunque consentire soccorsi al giocatore infortunato è tutt'altra partita in questo secondo tempo quella delle acule calatine che sembravano tra virgolette essere spacciate dopo il 2 a 0 alla fine dei primi 45 minuti anche in virtù del gioco espresso poco incisivo in termini offensivi poi però un piglio diverso ha impresso alla gara l'inserimento all'inizio della ripresa proprio di Alessandro Giacquinta autore del gol che ha dimezzato le distanze lo ricordiamo al nono e poi le acule che insomma non hanno certo accelerato più di tanto le loro azioni però hanno sicuramente giocato meglio intanto entra in campo Mario Parisi al posto di Lupica tutto questo al 27esimo della ripresa quindi un quarto d'ora abbondante per le acque e le calatine di pervenire al pareggio quindi come termini in termini temporali di possibilità restitisce palla intanto Luca agli avversari che dunque ha ripreso la sua posizione in campo riuscica all'impostazione Nicotra allarga il gioco sulla sinistra però viene entrato Parisi che ha tentato una stop a seguire viene fermato poi comete fallo c'è punizione a favore del Tre Castagni la posizione è affidata a Papotto battuta fermata da Nicotra che disimpegna su Riuscica verticalizzazione per Giacquinta che ha dato incontro al pallone ha difeso la sfera molto bene l'ha servita su Genovese all'apertura nella zona di Nobile ottima la sponda per l'inserimento di Giacquinta il tecle è scivolato providenziale di Murabito che dunque interrope questa azione pericolosa dell'Eucle Calatine la ripartenza è tenzata dal Tre Castagni fermata da Mario Parisi a beneficio di Nicotra riconquista palla dunque la professione biancorossa va l'impostazione offensiva con Nicotra che avanza verso la tre quarti avversaria si allarga a destra e riceve Riuscica Riuscica ferma il pallone per il suo cross in mezzo all'aria di pugna lontana Ravasco si scontra violentemente con Abdoulaye che ha credo commesso fallo e mentre rimangono entrambi a terra doloranti i giocatori protagonisti di questo infortuito scontro credo Ravasco ad avere riportato la peggio a seguito di questo violento scontro ovviamente Abdoulaye stava guardando il pallone non si è assolutamente avveduto dell'uscita tempestiva peraltro di Ravasco col quale appunto si è scontrato non so quali parti del corpo siano state tra virgolette protagonista del duro impatto fatto sa che i due giocatori sono ancora a terra speriamo nulla di grave per loro tutto questo gentili telespattatori allo scoccare della mezz'ora di questo secondo tempo sul parziale di tre Cassagni due Alquila Galatine uno si rialza comunque nel frattempo dovrebbe rialzarsi a vedere insomma l'atteggiamento dei compagni attorno a lui Abdoulaye mentre ancora a terra l'estremo difensore gialloblu sicuramente importanti gli interventi in termini di parate effettuate da Ravasco in questa partita in almeno un paio di situazioni ha tolto sicuramente le castagne al fuoco ancora a terra Abdoulaye ancora a terra Ravasco e quindi il gioco che comunque dovrebbe riprendere con il calcio di punizione a favore del tre Castagni ritenuto dunque falloso l'intervento di Abdoulaye ai danni del portiere Ravasco si rialzano in questo momento e quindi vedremo se saranno nelle condizioni di poter riprendere la loro posizione in campo mentre Abdoulaye viene accompagnato fuori dalla tango di gioco e vediamo che è già pronta però un'altra sostituzione tra le fila delle Aquile e Calatine dovrebbe trattarsi di Buttiglieri con la casacca numero 15 che potrebbe dunque oggi qui alla Carlina di Trecastagni fare il suo esordio in questa stagione 2016-2017 tra le fila delle Aquile e Calatine eccolo pronto infatti si tratta di un difensore centrale vediamo se comunque lo metterà al posto di Abdoulaye sembrerebbe proprio di sì buon compagni quindi consentendo a un qualche centrocampista di avanzare di qualche metro quindi entra in campo Buttiglieri al posto di Abdoulaye Mentre ancora non è nelle condizioni o forse sì Ravasco di riprendere la sua posizione in campo il gioco è rimasto fermo per oltre due minuti in questo frangente ci sarà parecchio da recuperare in questo finale di gara considerate tutte le sucessioni effettuate e quindi anche gli infortuni che si sono verificati in questa seconda frazione intanto riprende la sua posizione tra i pali della porta del Trecastagni Ravasco ed è Murabido che calcia la punizione in avanti a sinistra beneficio di Riolo che dipende molto bene il pallone lo cede per il neo entrato Pavone Pavone che porta valla pericolosamente verso la tre quarti lo rincorre Wally poi retro passaggio per il destro ancora di Riolo che non inquadra sfiga la porta la palla finisce molto lontano dai pali della porta stessa difesa da Polessi trentatresimo genovese ruscica piccolo trotto non fanno movimento i giocatori in avanti poi c'è questo lancio sul Amadou che viene fermato in qualche modo da Murabito altro faccia a faccia con Amadou è sicuramente interessante il suggerimento del passaggio nella circostanza proposto da Amadou intanto Wally è pronto per la rimessa in gioco l'ha effetto all'indietro a beneficio di Genovese tutta in avanti la formazione bianco-rossa parte il traversone al limite chiama palla coi pugni ancora la vasco la mette fuori la palla è raccolta da Ruscica che però se la fa soffiare via riconquistano dunque giallo-blu il pallone c'è questo buon intervento difensivo di Parisi che guadagna la rimessa laterale la lascia a Bartu anzi al nuovo intratto Buttiglieri Buttiglieri la gioca indietro su Genovese quindi va a fare l'esterno di difesa a sinistra Buttiglieri il lancio impreciso però stavolta di Genovese la ripartenza attenzione veloce del Trecastagni chiama in causa Idriso che scatta velocissimo lo rincorre e difende la rimessa laterale Buttiglieri che già effettua tra le braccia di Polessi che non la tocca neanche con le mani e subito chiama in causa Wally quindi Ruscica sempre al piccolo trotto Buttiglieri c'è spazio a sinistra per Parisi che non viene però servito c'è spazio a destra anche per Wally il lancio invece raggiunge al limite Bartoluccio che viene però fermato complice un difettoso controllo del pallone poi il disimpegno deviato in out da Nicotra rimessa giallo-blu trentacinquesimo tre Castagne due Aquile uno pronto Mirabella per la rimessa laterale a cercare Idriso risulta essere però imprecisa la battuta con palla che finisce direttamente in fallo laterale adesso rimessa Biancorossa Buttiglieri su Genovese Ruscica e certamente le squadre fanno molta fatica su questo gioco assolutamente pesante intanto Nicotra ancora in qualche modo impattato riesce a recuperare la palla grazie anche alla collaborazione di Bartoruccio quindi cambia gioco c'è spazio adesso c'è una prateria davanti per Wally vediamo se la sfrutta Portavalla verso tre quarti avversari va in trimire saltati due avversari ancora Wally Wally che si allarga a destra cerca di servire Amadou Amadou in qualche modo difende la palla dall'attacco di Riolo alla fine Biancorossa l'ultimo tocco e c'è rimessa a favore dello Sporting sul piano atletico ovviamente tutt'altra cosa la formazione calatina rispetto a quella che avevamo vista nell'ultima esibizione in quel di Biancavilla contro il Paternò ma anche insomma nelle ultime soprattutto tre partite di andata quando gli uomini di mister Bongo Paglia avevano sfodrato anche sul piano atletico delle prestazioni importanti intanto c'è la volata di Riolo sulla corsia di sinistra che viene in qualche modo rincorso perde palla in collaborazione di Amadou questo recupero che però sbaglia il controllo e poi commette fallo Amadou o forse Amadou ha subito il fallo vediamo un po' no il fallo è di Amadou assegnato alla punizione a favore dei tre Cassagni si gioca al piccolo Trotto punizione battuta a sinistra per questo inserimento di De Luca poi attaccato da Bartoluccio anzi no il cross in mezzo fermato da Genovese dunque le acule che riconquistano palla nuova impostazione porta il pallone genovese poi lo cede a sinistra beneficio di Nicotra Nicotra cerca di accelerare Parisi Tecla è scivolato dai suoi danni perde il pallone ottimo l'intervento di De Luca e poi il servizio laterale non viene raccolto da Idriso la palla è finita fuori rimessa ciò da Buttiglieri quindi Ruscica apertura a destra c'è spazio ancora per Wally potrebbe sfruttarlo porta palla Wally verso l'altra quarta di avversaria parte il suo traversone al limite chiama palla e lo blocca il pallone con sicurezza Ravasco lanciata la sfera in una zona morta di fatto in termini offensivi nella circostanza quindi in maniera vana con calma guadagna qualche secondo prezioso Ravasco e rilancia lungo verso la tre quarti avversaria ma direttamente in fallo laterale 38 primi 30 secondi Genovese ancora spazio per Wally ma Wally non è al top delle condizioni fisiche quindi preferito Nicotra che mette in movimento Parisi parte il suo cross sotto misura con buon tempismo interviene Papotto a scaraventare la sfera direttamente in fallo laterale ottimo cross a rientrare effettuato da Parisi dunque rimessa un attacco per le Aquile va allo stesso anzi va a Buttiglieri ad effettuarla che prende una lunga rincorsa verosimilmente lancerà verso l'area avversaria parte il suo lancio infatti lo stop di petto preciso poi si sovrappone già quinta al disimpegno del difensore giallo-blu in maniera fallosa dice l'arbitro che interrompe il gioco e comanda punizione per lo Sporting Trecastagne rimane a terra dolorante il giocatore protagonista di questo tentativo di disimpegno rimane ancora a terra nell'area di rigore del Trecastagne il difensore giallo-blu che si è prima scontratto con Giacquinta gioco che in questo secondo tempo rimarchiamo è stato fermo in più di una situazione soprattutto quando si sono scontrati Ravasco e Abdullai il cronometro è sicuramente rimasto fermo per oltre due minuti vedremo quanto e se il signor Falco di Siracusa arbitro dell'incontro farà recuperare in questo finale di partita mentre i minuti sono 40 e 20 secondi quindi 5 più recupero si rialza intanto il giocatore che francamente non ho visto ma dovrebbe trattarsi di Riolo o forse di Mirabella non sono c'è no Mirabella è qui non ho capito bene qual è il giocatore che insomma si è fatto male forse si tratta di un nuovo entrato o è Luca ecco è Luca dunque punizione giallo-blu che viene abbattuta in questo momento la palla è direttata verso la linea centrale e direttamente in fallo laterale dunque rimessa bianco-rossa pronto Butiglieri sul punto di battuta Genovese Ruscica c'è spazio per Wally Wally subito attaccato va in palleggio aereo porta valla sulla tre quattro avversaria Wally resiste alla carica poi perde il pallone ma viene toccato fallosamente fisica l'arbitro e segna punizione a favore delle acque le calatine potrebbe essere uno degli arrembaggi finali di questo match per tentare di riequilibrare le sorti dell'incontro è pronto Nicotra per la battuta di questo piazzato siamo a circa 40 metri dalla porta difesa della Vasco tutti i biancorossi praticamente salto dall'area avversaria la decisione di Wally ma l'arbitro dice che bisogna attendere il suo fischio prima di calciare la punizione quindi da rifare ricordiamo inoltre che le acque sono in 11 contro 10 tra Castagne rimasto in 10 per l'espulsione combinata ai danni del difensore centrale russo pronto Nicotra ancora gran movimento al limite dell'aria il fischio dell'arbitro il traversone di Nicotra sul secondo palo il colpo di testa mancato da Nobile mettono fuori i difensori la palera raccolta da Paris si crede dunque resta in attacco a parte il traversone ancora in mezzo all'aria l'acrobazia tentata credo da Bartoluccio anzi no è stato Butiglieri il difensore centrale Butiglieri che si era portato in avanti ha tentato di colpire al volo di sinistro coraggiosa l'intenzione ma l'impatto impreciso col palone con palla appunto sul fondo rimessa a favore dello Sporting tra Cassani 42 primi 40 secondi quindi due minuti più recupero alla fine vedremo siamo curiosi di vedere quanto il signor Falco farà a recuperare intanto pronto Ravasco per questa rimessa da fondo campo il destro di Ravasco ancora un po' svirgolato la palla che rimbalza a terra la tocca Parisi e poi il fallo di Mani di Nicotra punizione a favore del Trecastagni si porta il solito Luca sul punto di battuta di questo piazzato a favore dei giallo-blu parte solo un grancio nella zona di Idrisu che fa per pallone sparare la porta lo difende molto bene all'attacco di Genovese si allarga verso la bandirina d'angolo poi tenta di trovare il cross e alla fine credo commette fallo e non ho capito cosa abbia combinato Parisi per essere direttamente espulso evidentemente ha rivolto quindi con palla lontana non so quale fallo abbia commesso non sono riuscito a vedere Parisi ma sicuramente ha commesso un fallo di una certa gravità per il direttore di gara che lo ha espulso direttamente dunque resta l'attacco la formazione giallo-blu nella circostanza che frisce di questo calcio di punizione sul punto di battuta il solito Luca più indietro c'è anche Pavone lo scambio tra i due ecco Luca Luca attaccato da Ruscica difende palla all'altezza della lunetta d'angolo gli è la sradica dei piedi Nicotra che tenta la ripartenza cerca di servire Ruscica poi in qualche modo Ruscica la meglio porta palla il numero 6 è una delle punti di azione scocca in questo momento intanto il novantesimo vedremo se Falco segnalerà il recupero ma non sta segnalando alcunché intanto la palla è servita per l'inserimento di Genovese Genovese su Ruscica quindi siamo entrati nel recupero dovrebbero essere 7 minuti 6 o 7 minuti 6 sicuro intanto Nicotra la mette in profondità bene per Bartoluccio Bartoluccio parte sul traversone a centro area il colpo di destra di Nobile la palla in gol 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 Francesco Nobile azione da manuale e l'attaccante numero 9 delle Aquile porta in parità il risultato qui alla La Carlina di Tre Castagni nel momento forse meno sperato i biancorossi di Mister Buon Compagni trovano il gol pareggio con Francesco Nobile ottimo il traversone proprio dalla linea di fondo effettuato da Bartoluccio preciso teso a centro area per la precisa incornata che ha in avvitamento di Francesco Nobile che non ha lasciato scampo indirizzato la palla proprio a fil di palo sulla destra di Ravasco traiettoria assolutamente imprendibile e dunque in pieno recupero al novantunesimo nuovo parziale qui alla Carlina di Tre Castagni Tre Castagni due Aquile due mi ricordo si giocherà fino al novantasesimo intanto la ripartenza attenzione ancora di Bartolucci sulla pace a sinistra il pallone che viene in qualche modo recuperato dai biancorossi dopo averlo perso poi Buttiglieri che rilancia nella zona di Giacquinta anticipato molto bene poi il buon disimpegno del solito Lugo che rilancia centralmente su Idriso fermato al volo in precisa scelta di tempo da Buttiglieri che mette la palla in out rimessa in attacco dunque per il Tre Castagni dunque match che proprio nel tempo di recupero si è ulteriormente vivacizzato qui alla Carlina di Tre Castagni ci prova ancora il solito De Luca a difendere la palla guadagna questa importante rimessa alla tarare effettuata da Mirabella il servizio per Idriso ma sbaglia il pallappoggio il disimpegno poi di Ruscica che rilancia a centrocampo non ci sono compagni resta in attacco dunque il Tre Castagni che adesso si riversa verso l'attacco di avversaria con De Luca che recupera la palla buono il palleggio di De Luca che cerca di puntare l'avversario e Bartoluccio che difende il pallone e la traiettoria dello stesso in fallo di fondo 47 primi 30 secondi di gioco ancora 3 minuti e mezzo da giocare mentre rimane a terra dolorante credo lo stesso De Luca che si è prima scontratto con Bartoluccio riparte dai piedi di Genovese l'azione delle Aguile Galatine a destra è conservito Wally Wally esterno destro lo mette in movimento Ruscica Ruscica apre a destra ma sbaglia la misura del passaggio si era inserito bene Amadu nella circostanza attenzione alla ripartenza del Tre Castagni con il solito Luca abbrissimo Monello Stretto a mantenere in possesso la palla va fuori in dribbling più di un avversario poi fa anche la Veronica commettono a farlo su di lui c'è punizione a favore dei gialloblu sta intanto per scoccare il 49esimo l'apertura a sinistra per l'inserimento di Riolo dunque palla persa ma non viene raggiunto dal pallone Amadu riconquista la palla dunque il Tre Castagni con ancora Riolo Riolo attaccato da Nicotra retropassaggio che mette in movimento Murabito Murabito che viene attaccato difende molto bene il pallone il difesore centrale del Tre Castagni rilancio da quest'altra parte fermato da Walli rilancio ancora a centrocampo nella zona di Amadu che tocca corto ma non raggiunge Nobile disimpegna bene dunque la difesa del Tre Castagni che adesso si proietta nuovamente sulla tre quarti avversaria in maniera pericolosa con Mirabella Mirabella che riesce a servire Idriso Idriso in verticale corto per il destro in girata effettuato se non erro da Pavone che trova di fatto la direzione dell'avversario in corner e c'è calcio d'angolo numero due a favore del Tre Castagni tutto questo gentile delle spettatorie allo scoccare del novantacinquesimo ancora un minuto di recupero qui alla Carlina di Tre Castagni parte il traversone di Pavone a centro aria la testa di Nicotra a mettere fuori una palla che rimbalza lì pericolosamente finisce a terra Amadou lascia proseguire il gioco l'arbitro Idriso che riesce a servire a destra Mirabella ma è finito in offside Pavone si alza la bandirina dell'assistente c'è calcio di unizione a favore delle a quelle calatine che hanno certamente lo rimarchiamo effettuato una vera e propria prova d'orgoglio nell'arco di questo secondo tempo dopo essere state sotto di 2 a 0 alla fine dei primi 45 minuti di gioco hanno sfoderato una prestazione sicuramente importante in questo secondo tempo intanto ancora all'impostazione Biancorossi con Ruscica che lancia lungo verso le trecordi avversarie nella zona di Nobile che non controlla benissimo il polere all'alone ma riesce in qualche modo a servire Giacquinta Giacquinta con calma cerca di ragionare e chiama in causa Nicotra palleggio fra i due ancora Giacquinta quindi Buttiglieri Buttiglieri chiama assolta in causa Ruscica lungo lancio ancora in aria al limite lo ferma bene questo pallone difensore poi l'intervento ritenuto falloso quello di Nobile che si è opposto al rilancio di De Luca ma c'è calcio di punizione a favore del Tre Castagne avevo visto bene erano sette minuti di recupero già sei scaduti da dieci secondi quindi siamo entrati nel settimo minuto di recupero si sta giocando il novantasettesimo e arriva in questo momento il triplice pischio del signor Falco di Siracusa finisce qui alla Carlina due a due tra Tre Castagne e Aquella Clatina alla fine soprattutto rimarchiamo per l'ennesima volta di un secondo tempo all'altezza delle aspettative sicuramente vibrante interessante se non altro grazie all'ottima prova d'orgoglio mostrata dai giocatori di Mr. Samuel Buoncompagni che hanno dunque raddrizzato una situazione che sembrava incontroversibile ma il piglio è stato quello giusto quello mostrato sin dai primi minuti di questo secondo tempo ribadiamo l'ordine delle marcature aperte all'ottavo su calcio di rigore da Murabito per un fallo in aria commesso da Wally il gol raddoppio al trentaduesimo su bellissima azione dalla destra effettuata da Luca attraversone sul secondo palo in precisa incornata sotto misura di Finocchiaro nel secondo tempo il neo è entrato già quinta al nono con una bella diciamo battuta d'interno collo sinistro metteva alle spalle di Ravasco e poi il gol pareggio proprio in pieno recupero esattamente al quarantasesimo lo realizzava Nobile su preciso attraversone dalla sinistra effettuato da Bartoluccio dunque ribadiamo qui dalla Carlina di Tre Castagni il finale di questa sedicesima per le Aquile e per lo stesso Tre Castagni Sporting Tre Castagni e due Aquile e Calatine e due è tutto la linea può tornare allo studio Grazie a tutti